Dagli investimenti sul territorio al potenziamento dei servizi digitali per l'utenza, è stato un anno ricco di progetti per Paviaacque. Nonostante i problemi dovuti ai rincari, l'azienda è riuscita a fare di necessità virtù anche grazie ai contributi del PNRR. È stato per Paviaacque un anno molto importante con grandi risultati, sebbene si è iniziato nell'incertezza dovuta alla crisi energetica che ha portato i prezzi dell'energia elettrica alle stelle. Nel nostro caso i costi sono duplicati, tuttavia Paviaacque è riuscita a garantire e a mantenere gli interventi previsti e ha lavorato per cercare linee di finanziamento alternative. Come il PNRR che ci ha premiato dandoci 16 milioni di euro in opere finanziate. Sono tanti come detto i progetti messi in campo nel corso dell'anno, i bonus, le innovazioni digitali e anche il secondo bilancio di sostenibilità, ha tenuto a sottolineare il Presidente Imparato. Il 2023 come ho detto ha portato grandi risultati, come ad esempio siamo riusciti a chiudere il secondo bilancio di sostenibilità, abbiamo migliorato notevolmente il rapporto con l'utente grazie ad esempio alla bolletta Smart, l'adeguamento dello sportello online, della modulistica e rinnovando completamente il sito di Paviaacque rendendolo di più semplice navigazione e trasparente. Sul fronte bonus idrico, relativamente al bonus idrico Arera, sono stati consegnati circa 22 mila assegni circolari. Per quanto invece riguarda il bonus idrico provinciale, Paviaacque quest'anno si è fatta carico dell'intera iter delle istanze, cioè dalla ricezione alla gestione e abbiamo chiuso circa 5 mila istanze. Sul fronte del telecontrollo abbiamo proseguito l'attività di telecontrollo relativa alla depurazione acquedotto e fognatura, collegando circa 450 RTU al telecontrollo provinciale. E proseguite inoltre l'attività relativa al cambio massivo dei contatori. Iniziato nel 2019 siamo a circa 90 mila contatori su un parco di 200 mila. Concludo con gli investimenti. Nel 2023 in termine di direzione e progettazione abbiamo messo in campo 42 progetti con un costo di investimento pari a 70 milioni di euro. Numerose sono le opere che Paviaacque sta realizzando sul territorio provinciale. Il bilancio è tracciato dal direttore generale Bina. Dunque noi abbiamo in corso circa 100 interventi in tutta la provincia di Pavia, di cui una settantina gestite direttamente da noi, una trentina gestite nelle nostre società operative territoriali. e riguarda in generale la ristrutturazione, il potenziamento del rete acquedotto, l'estensione essenzialmente del rete di fognatura e il potenziamento degli impianti di porazione. I principali sono distribuiti più o meno in tutta la provincia, riguardano il potenziamento del sistema di depurazione di San Nazaro e tutto il collettore che da Zinasco raggiunge San Nazaro, il potenziamento del sistema acquedottistico dell'Oltrepopavese. Un altro fronte su cui siamo molto attivi a livello di progettazione e di presentazione di richieste è la partita che riguarda i finanziamenti a fondo perduto, sia PNRR che sul piano nazionale di interventi per la sicurezza dei sistemi idrici. In totale abbiamo in ballo circa 50 milioni di richiesti di finanziamento, di cui sei già erogati per il potenziamento di tre depuratori a bereguardo, Corpello Cairoli e Lungavilla. Grazie a tutti.